Ben trovati a tutti, sono qui per tenervi un po' compagnia, parlare di qualcosa di sano, come nelle corde, nello spirito di lume, e per aumentare i momenti che possiamo passare insieme in questo momento in cui siamo tutti a casa, tutti distanti, ma possiamo sentirci vicini. Quindi ci alterneremo io e Sorili, sempre a quest'ora della mattina, alle 11 parleremo di salute in diverse declinazioni. Io parlerò più di tematiche legate al cibo, a cosa possiamo fare con il cibo per stare meglio, perché è sicuramente uno dei capisaldi della naturopatia per vivere in salute, per potenziare e mantenere la nostra salute. Questi momenti si aggiungono a quelli che Davide quotidianamente tiene per occupandosi di pensieri, di emozioni e quindi di meditazione, e ai video della cucina che saltuariamente stiamo preparando con grande impegno per darvi dritte pratiche per mangiare meglio. Oggi ho scelto come primo argomento un prodotto fermentato, il miso, il miso che probabilmente tanti di voi conoscono, è un prodotto che affonda le sue radici, nasce nel lontano oriente, nasce in Cina più di 2000 anni fa. Il suo nome significa fonte di sapore, fonte di gusto, e si dice una leggenda orientale narra che gli dèi chiedero questo prodotto all'umanità per rendere l'umanità felice, sana e per donare benessere. I monaci buddisti poi dalla Cina portarono il miso in Giappone e lì si affinò questa produzione, perché da un prodotto che era derivato solo dalla soia, divenne un prodotto un po' più elaborato, a cui furono aggiunti anche cereali nei secoli a seguire. Perché era fondamentale? Per le comunità di monaci buddisti, perché avevano un'alimentazione vegetariana e il miso contiene proteine cosiddette nobili, con tutti gli aminoacidi considerati essenziali, che erano un'integrazione fondamentale per i monaci buddisti. Dal Giappone poi è stata tramandata negli anni, nei secoli, questa produzione, fino ai giorni nostri. Per fortuna con l'avvento dell'industrializzazione, delle produzioni industriali, alcune famiglie non hanno perso questa tradizione. Ancora oggi possiamo godere di preparazioni tradizionali, non solo provenienti dal Giappone, perché ad oggi in Italia ci sono dei piccoli produttori che producono miso. Producono miso qui in Italia, quindi miso a chilometri zero o quasi zero, che possiamo ricercare, possiamo trovare nei mercatini di prodotti biologici o prodotti dedicati. Quindi anche se in questo periodo può essere un po' difficile reperirlo, quando potremo muoverci più liberamente, sicuramente riusciremo a trovare un miso di casa nostra. Perché il miso è così importante? Perché il miso è considerato un alimento fondamentale? Da noi l'ha portato la tradizione macrobiotica, quindi questa corrente di pensiero, non solo alimentare, che arriva dal Giappone appunto. Ma perché è fondamentale? E ancora di più in questo momento, perché il miso, come vi accennava Soili quando ha fatto l'incontro sull'intestino, è un grande aiuto proprio per la flora batterica intestinale. È un prodotto fermentato, come ne conosciamo tanti, parleremo poi anche di altri fermentati in un successivo incontro, tanti fermentati che possiamo introdurre nella nostra alimentazione. Un po' come lo yogurt, diciamo. Quindi è ricco di lattobacilli, che fanno bene alla nostra flora batterica intestinale e quindi favoriscono una buona funzionalità intestinale, che è una condizione necessaria per avere una buona risposta immunitaria, quindi per alzare le difese generali dell'organismo. Ecco perché è importante sempre, ma in questo momento, in cui parliamo tanto di salute, parliamo tanto di protezione, occuparci del nostro intestino è fondamentale. Non esiste solo un tipo di miso, esistono vari tipi di miso. Esiste il miso di soia, detto accio miso, che viene fatto fermentare, maturare in botti per circa 24 mesi ed era considerato così prezioso che anticamente era riservato alla Casa Reale in Giappone. Ha un sapore un po' forte, personalmente amo di più il miso di orzo e il miso di riso, a cui si aggiunge alla soia cotta un cereale cotto o riso o orzo e vengono fatti fermentare. Anche in questo caso per periodi lunghi, dai 12 ai 24 mesi, sempre in botti, viene rinnovato, viene aperto perché la fermentazione avvenga al meglio in acqua e sale e poi viene, quando è stabilizzata questa massa, viene appunto stoccato e ha una durata molto elevata. Proprio perché è un prodotto stabile, non ha bisogno di essere pastorizzato perché possa durare. Ecco che è fondamentale che controgliate, quando comprate il miso, che non sia pastorizzato, perché la pastorizzazione è un procedimento abbastanza aggressivo che rende meno vitale il miso e quindi che ucciderebbe o inattiverebbe molti dei suoi fermenti. Ed è fondamentale imparare a leggere bene l'etichetta per capire di che tipo di prodotto stiamo comprando. Vi ho portato un po' di miso di orzo, ve lo voglio far vedere. Non ne potete sentire il profumo, ma è molto saporito, ricorda vagamente il profumo di un dado, ma di un dado buono. Ecco perché alcuni lo equiparano tante volte, perché dà sapore, effettivamente dà sapore alle verdure bollite, dà sapore alle nostre zuppe. Poi vi dirò come utilizzarlo dopo aver parlato delle sue numerose proprietà. Il miso quindi, essendo un prodotto vivo, va conservato al fresco, in un luogo asciutto al fresco, non va pastorizzato, non va cotto a lungo, anche se può essere scaldato perché è un prodotto resistente, e va utilizzato con cognizione di causa, perché tante volte facciamo l'errore di pensare che ciò che fa bene va usato in grandi quantità, più ne usiamo meglio è. Non è così, non è così per tante cose. Ciò che fa bene va utilizzato, magari con frequenza, ma nella giusta misura. Quindi il miso può essere utilizzato quotidianamente, a seconda delle tipologie di persona, a seconda di quello che voglio raggiungere. Quali sono le sue proprietà? Allora, fondamentale, dicevo, è la ricchezza di proteine. La ricchezza di proteine, mediamente, ha un contenuto proteico dall'11 al 14%. Ecco che diventa importante per chi ha regimi a basso tenore proteico dal punto di vista animale, e quindi vuole integrare, vuole sentirsi sicuro. Tante volte abbiamo il timore di assumere poche proteine. È fondamentale, quindi, per la nostra flora batterica intestinale, ed è fondamentale perché favorisce l'utilizzo, la digestione e l'utilizzo delle proteine, dei carboidrati, dei grassi. Quindi favorisce il metabolismo e la digestione. Ottima una zuppa di miso o un brodo di miso leggero ad inizio pasto. Inoltre è ricchissimo di oligoelementi, è ricchissimo di sali minerali, calcio, ferro, magnesio. Ecco perché è una vera fonte di benessere. Perché aiuta, ad esempio, la pelle, aiuta i capelli a mantenersi lucidi, sani, in forma. Cos'altro dire? Sono tante le proprietà del miso. Quindi dà la digestione all'intestino e contiene anche una sostanza fondamentale. Contiene tanta lecitina, proprio perché è a base di soia. Contiene lecitina e contiene acidi grassi poliinsaturi fondamentali per la nostra salute da prendere con l'alimentazione, in particolare l'acido linoleico. Cosa fanno? Aiutano il cuore a mantenersi in salute. Aiutano il cuore a mantenersi in salute, favorendo lo scioglimento, diciamo, dei depositi di colesterolo cattivo, tra virgolette, e non abbassando però il colesterolo cosiddetto buono. E ecco perché sono dei grandi protettivi per il cuore. Inoltre il miso aiuta negli stati infiammatori, aiuta a contrastare gli stati infiammatori, proprio per la sua ricchezza di sali minerali. Quindi ricapitoliamo un po' il perché dovremmo prendere il miso quotidianamente. Allora innanzitutto, ecco, prima di ricapitolare, il miso è un prodotto molto salato. Quindi per chi ha problemi con un eccesso di sodio nella dieta andrebbe utilizzato con attenzione. Andrebbe utilizzato con attenzione anche se, ovviamente, quando parlo di alimentazione, faccio questa premessa, quando parlo di alimentazione, come ora, parlo di un tassello. È come un grande puzzle che si compone di tanti tasselli. Quindi oggi stiamo parlando di un pezzo, ma è un pezzo in un quadro più grosso. Ecco perché quando mi fanno domande di alimentazione, o quando da naturopata do consigli sullo stile di vita, non posso vedere solo una pennellata di un quadro, voglio vedere tutto quel quadro per capire come quel quadro l'armonia di un quadro generale. E poi, al contempo, un quadro generale va sempre calibrato in base alla persona di cui sto parlando. Quindi adesso parliamo di un pezzettino importante, ma con uno dovrebbe adattare al proprio stile di vita. Quanto mangio salato, quali altri prodotti mangio, da che cosa è formata la mia alimentazione in generale, le mie abitudini. E quindi sappiate sempre che ogni indicazione pur valida va calibrata, perché le reazioni sono sempre individuali e perché le abitudini che producono salute sono tante. Producono salute o meno. Ok? Quindi il miso aiuta la digestione. Quindi importantissima sarebbe iniziare un pasto, una cena. Una cena, sapete perché dico una cena? Perché una bella zuppa di miso la vedo molto serale. È vero che inizia a fare caldo, ma non fa ancora così caldo. E quindi un po' di brodo di miso sarebbe riscaldante, aiuta la digestione e aiuta a utilizzare meglio tutto il cibo che mangerò dopo. A tal proposito vi faccio vedere, anche se non posso ovviamente fare come ho fatto con il miso, perché questa è una zuppa appena fatta. Quindi io vi faccio vedere, anche qua ha un profumo eccezionale che voi non potete sentire, però vi assicuro che potete farla facilmente. Vi do una ricetta veloce, poi per 5 tazze d'acqua. Più o meno dobbiamo prendere una tazza di carota, quindi una verdura un po' dolce, potrebbe esserci anche la zucca, anche se adesso non è di stagione, tagliata a pezzettini piccoli. Poi la cottura varierà anche in base alla grandezza dei pezzi in cui ho tagliato la verdura. Una cipolla fettata fine, una verdura verde, un po' di sedano, una verdura verde, in questo caso potrebbero essere degli spinaccini e delle coste primaverili. E in questa zuppa abbiamo messo anche dei cubettini di tofu. Si fa sobollire per un tempo variabile del 15 ai 30 minuti, sempre in base alla verdura che ho messo dentro e alla grandezza dei pezzi che ho scelto di tagliare. Poi quando la bollitura è terminata si aggiungono un cucchiaino di miso che può arrivare fino a due in alcuni casi per ogni tazza di acqua. Si mescola, si può fare sobollire lentamente per un minuto al massimo e poi si serve. Si può aggiungere qualche pezzo di tofu e qui, chicca finale, si aggiunge un po' di erba cipollina o un po' di cipollotto fresco tagliato al momento oppure un po' di prezzemolo proprio alla fine per dare un gusto, un sapore, una vitalità con qualcosa di fresco appena prima di mangiarla. Quindi la zuppa di miso è buonissima, accontenta, grandi e piccini, perché? Perché è molto saporita, ma il miso è molto saporito e si può utilizzare anche in altri modi. Vi faccio un esempio, a me piace molto perché amo le cose secche spalmato sulle gallette o su una fetta di pane, tostata o meno, è come un patè che può essere in questo caso anche arricchito sempre di erba cipollina o di tahin. Vedremo poi le proprietà del tahin, del sesamo e del gomasio mercoledì sempre alle 11 quando ci rincontreremo per parlare di un altro cibo molto salutare, buono e salutare. Quindi il miso può essere anche utilizzato in tanti altri modi, può essere fatta anche una cremina di miso e tahin che faccia da condimento su una verdura bollita, quindi niente olio, niente sale, questa cremina che condisce e dà sapore. Perché vi sto dicendo? Sto mantenendo un po' due linee, il buono che fa bene. Tante volte abbiamo l'idea di prendere quello che fa bene un po' così come sforzo, in realtà quello che fa bene può essere molto buono, può essere molto buono. Ci sono tante cose che fanno bene, che nutrono la salute, che nutrono il nostro gusto. Il miso è uno di queste, per la digestione, per la flora batterica intestinale, per aiutare il metabolismo, per la bellezza di pelle e capelli, per utilizzare meglio il cibo che mangeremo dopo, quindi il metabolismo di grassi, proteine e carboidrati e per integrare una dieta di sale, minerali e oligoelementi. Per ultima, ma non ultima, la ricchezza di vitamine del gruppo B, che è importantissima per il nostro sistema nervoso in questo momento più che mai, visto che tanti di noi sono messi alla prova, ma anche proprio per i tanti meccanismi che quotidianamente il nostro corpo svolge. Quindi fate sì che il miso arrivi sulle vostre tavole tutti i giorni o frequentemente nella giusta dose, senza esagerare. Io vi ringrazio. Vi aspetto mercoledì alle 11 qui, parleremo di sesamo, tain, gomasio. E domani ci sarà Soili che parlerà dei rimedi naturali per l'insonnia. Ciao, buona giornata. Se avete bisogno, noi di Lumen ci siamo. Siamo qui con voi per far sì che questo momento diventi un momento pieno di nuovi germogli per la nostra vita, presente e futura. Buona giornata.